La festa dell'arma celebrata nella caserma del XIII Regimento di Artiglieria, alla presenza del Comandante del Corpo d'Armata di Roma. Dopo il battesimo delle Bocche da Fuoco, con i nomi dei caduti della divisione Granatieri di Sardegna, si è svolta la manifestazione ippica, che comprendeva percorsi a tandem effettuati da ufficiali e l'eccezionale evoluzione di una batteria di obici da 117, guidata da un solo ufficiale. Sardegna Sardegna